Giornata di emozioni quest'oggi al grande fratello VIP. Non solo per l'imminente puntata che andrà in onda questa sera, ma anche per la dedica che oggi Pierpaolo Pretelli ha ricevuto dalla sua fidanzata Giulia Salemi, ultima eliminata dal reality show. L'influencer, infatti, insieme ad alcuni fan ha pensato bene di inviare un bellissimo aereo con una dolce dedica. Un modo, quello di Giulia Salemi, per ricordare a Pierpaolo che è sempre nei suoi pensieri e che una volta fuori ha il desiderio di continuare a conoscerlo e approfondire quanto di bello costruito fino ad oggi sotto alle telecamere. Ecco il messaggio presente nell'aereo. Pierp6, nostro orgoglio. Ti amo firmato Giulia e fan. Così Pierpaolo Pretelli questa mattina è stato dolcemente spiazzato dalla sorpresa di Giulia Salemi e dei suoi fan. La maggior parte dei concorrenti si trovavano in giardino a prendere il sole, quando sui cieli di Roma è improvvisamente sfrecciato un bellissimo aereo. Vi è piaciuto il gesto di Giulia?